Assessore, c'è stato intanto il via libera da parte della Giunta sullo schema di convenzione, un primo passo in avanti molto importante? Sì, è stato approvato nella Giunta di ieri, lo schema come già annunciato in diverse occasioni pubbliche insieme al Presidente Ranucci, lo schema di convenzione che prevede una gestione quinquennale dello stadio libero liberati, un impegno da parte della Ternana Unicusano ad effettuare sia tutte le manutenzioni di natura ordinaria che straordinaria e quindi un tassello importante aspettando e sperando che i successivi passaggi di commissione consigliare e consiglio comunale diano lo stesso esito favorevole che ha dato ieri la Giunta. Segno che Comune e Ternana sono tornati a parlare e a collaborare? Assolutamente sì, ma questo è stato un approccio che sin dalle prime ore della nuova gestione della Ternana Calcio non ha faticato ad appalesarsi, un approccio nei confronti dei rapporti istituzionali assolutamente costruttivo e profiguo, basti pensare che in pochi mesi non solo sul fronte societario la Ternana è riuscita ad effettuare il tanto atteso closing, ma anche sul fronte appunto dei rapporti sull'utilizzo dello stadio con l'istituzione comunale, è riuscita a chiudere brillantemente attraverso un testo di convenzione che a mio avviso regolerà in maniera eccellente i rapporti tra Comune e Ternana Calcio per i prossimi cinque anni. A proposito di stadio e società sportive, recentemente c'è l'esempio di Bergamo, dove il Comune ha ceduto l'impianto all'Atalanta. Questa è una prospettiva che ad oggi ovviamente non è all'ordine del giorno, sul tavolo delle interlocuzioni con la società, però sicuramente è una prospettiva verso la quale è il calcio a livello nazionale che sta andando lentamente rispetto ad altri paesi d'Europa, ma sicuramente con un'accelerazione che nei passati due o tre anni ha subito fortemente questo processo. Quindi perché no in futuro ragionare anche in questa città di prospettive simili. Per adesso sicuramente non è all'ordine del giorno e ci accontentiamo del risultato sia noi che la Ternana ottenuto fuori dal campo con la firma di questa convenzione. Tra le cose all'ordine del giorno c'è il derby. Che invece richiede risultati dentro al campo in una partita che per questa città, per questa comunità, per il tifo e per il tessuto sociale rappresenta molto di più dei semplici tre punti che sono messi in palio ogni sabato. In questo caso non solo l'auspicio ma la speranza forte di tutti, in questo caso io sia in veste di tifoso che di amministratore, è che la Ternana riesca attraverso questa partita a ritrovare simbolicamente i tre punti in un derby che attendiamo da qualche tempo e sicuramente che attraverso il derby si inneschi anche un riscatto sportivo perché fuori dal campo le cose stanno andando in maniera brillante e veloce e diciamo verso prospettive ottimali. Aspettiamo e siamo fiduciosi che anche dentro al campo questa svolta si possa concretizzare attraverso innanzitutto la vittoria del derby.